ho già pubblicato la prima parte per quando riguarda il regno millenario di cristo e ho spiegato sia con le scritture sia anche attraverso ciò che ha scritto verso la fine del quarto secolo santa santa agostino che anche uno dei 35 dottori della chiesa e quindi adesso mi propongo di fare questa seconda parte dove vi leggerò semplicemente due scritti molto importanti che ci spiegano appunto il millennio allora uno scritto è dell'anno 530 dopo cristo si tratta è tratto dal commento all'apocalisse di san cesaro di arles leggeremo l'omelia numero 18 dove appunto viene spiegato il capitolo 20 di apocalisse e il millennio e poi vi leggerò dal commento dell'apocalisse del venerabile essanto beda anche lui uno dei 35 dottori della chiesa cattolica in cui ci spiega appunto il capitolo 20 di apocalisse e il millennio quindi vi leggo testualmente dall'omelia 18 dove qui inizia quest'omelia con la spiegazione di apocalisse capitolo 19 versetto 2 e 3 e parla anche di babilonia cioè ci rivela chi è babilonia la grande questa donna che viene vista nel capitolo 17 e se ne parla anche nel capitolo 18 di apocalisse ma per spiegare chi è babilonia poi farò forse uno o due video dove appunto vi spiegherò attraverso anche gli scritti dei padri della chiesa chi è l'identità di babilonia la grande ma in questo video parlerò più che altro del del millennio cioè vi leggerò riguardo al millennio tuttavia san cesario di arles nel 530 in questa omelia l'omelia numero 18 parla e descrive anche questa babilonia e già ci dice da subito chi è quindi vi leggo testualmente nella lettura che è stata appena fatta cioè di apocalisse 19 2 e 3 allora vi dico subito che quelle parole che vedete scritto in corsivo sono parole tratte dalla scrittura quindi sono delle lici delle citazioni soprattutto della scrittura soprattutto di apocalisse e di altri passi che troviamo nella bibbia quindi nella lettura che è stata appena fatta fratelli carissimi il beato evangelista giovanni si esprime così udì la voce potente di un popolo numeroso di coloro che dicevano nel cielo alleluia la salvezza gloria e potenza al nostro dio perché i suoi giudizi sono veri e giusti perché ha condannato questa grande prostituta che ha vendicato il sangue dei suoi servi che aveva sparso con le sue mani e di nuovo dissero alleluia questa voce è quella della chiesa quando la separazione si sarà compiuta quando cioè tutti i cattivi saranno usciti dal suo seno per bruciare nel fuoco eterno e il loro fumo dice sale per i secoli dei secoli ascoltate fratelli e state e siate pieni di spavento e tenete per certo che babilonia è la prostituta il cui fumo sale per i secoli dei secoli non rappresenta null'altro che gli uomini cupidi adulteri e orgogliosi perciò se volete sfuggire questi mali non commettete questi gravi peccati dice e il loro fumo sale infatti è forse il fumo di una città visibile consumata dalle fiamme che sale per i secoli dei secoli o non è piuttosto quello degli uomini induriti dall'orgoglio ma esso sale non dice salirà infatti essa anche nel mondo presente va sempre verso la perdizione ma babilonia è bruciata in parte solo in parte come gerusalemme transita nel paradiso in questi santi che escono dal mondo come mostra il signore nel povero e nel ricco c'è la parola la storia del ricco e di lazaro che troviamo in luca capitolo 16 versetti da 19 fino a 31 quindi interessante questo particolare che già ci fa comprendere che l'identità di babilonia laggrante che non è una città materiale letterale che troviamo qui sulla terra ma include tutti gli empi complesi include anche gli eretici tutte le persone diciamo peccatori tutti quelli increduli dice che il fumo del suo tormento sale non dice salirà cioè come se succederà in futuro ma dice al presente sale perché tutti gli empi quando muoiono vanno in perdizione e quindi per loro avviene questo giudizio ma continuiamo la lettura eudì come la voce di un popolo numeroso e come la voce di grandi acque e come il fragore di un grande tuono che diceva alleluia perché il signore nostro dio onnipotente ha preso possesso del suo regno rallegriamoci ed esultiamo e glorifichiamo il suo nome perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è pronta e la sposa dell'agnello è la chiesa e lei fu dato di rivestirsi di lino fine puro e splendente il lino fine infatti sono le opere buone dei santi gli è stato dato di rivestirsi delle sue opere come sta scritto che tutti i tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia e qui viene citato il salmo 132 o 131 versetto 9 dipende la bibbia che voi usate ancora continuiamo la lettura paragrafo 3 tutti costoro dice hanno vissuto e hanno regnato con il cristo per i mille anni cioè nel tempo presente e dice con ragione tutti e i sopravvissuti e le anime dei santi cioè coloro che vivono ancora in questo mondo e quelli che hanno già lasciato questa vita e regnano con il cristo ha detto hanno regnato al perfetto come si sono divise le vesti poiché avrebbe dovuto dire regneranno cioè invece di hanno regnato avrebbe dire doveva dire regneranno in futuro invece dice regnarono la scrittura o hanno regnato significa che il regno simbolico dei mille anni è indeso al presente perché dice hanno regnato regnarono dice la scrittura non dice regneranno ma regnarono quindi infatti per mostrare che questi mille anni sono in questa vita dice ancora questa è la prima risurrezione e quella infatti nella quale risuscitiamo con il battesimo come dice l'apostolo se siete risuscitati con cristo ricercate le cose di lassù e qui viene citato colossesi capitolo 3 versetto 2 vedete già la scrittura ci dice chiaramente che noi siamo già risuscitati con cristo perché appunto è avvenuta mediante il battesimo avviene la risurrezione dell'anima quindi se siete risuscitati con cristo ricercate le cose di lassù colossesi 3 2 e ancora come dei viventi ritornati dalla morte questa è l'agitazione di romani 6 13 quindi noi già siamo risorti la risurrezione la prima risurrezione è già avvenuta e avviene mediante il battesimo infatti il peccato è una morte come dice l'apostolo mentre eravate morti a causa delle vostre colpe e devo peccati e qui viene citato efesine 2 1 quindi noi già prima eravamo morti a causa dei peccati ma mediante cristo in pratica siamo tornati alla vita vedete queste scritture già smondano il millennio terreno carnale dei degli eretici di isola scrittura di giuda dei giudei insomma delle pseudo chiese cristiane giudaizzanti ma continuiamo ancora la lettura qui dice è come la prima morte in questa vita è la morte del peccato la prima risurrezione si opera in questa vita come la remissione con scusate con la remissione dei peccati beato essendo colui che prenderà parte alla prima risurrezione la scrittura dice in realtà che prende parte alla prima risurrezione cioè chi avrà conservato ciò a cui è rinato ciò a cui è rinato nel battesimo la seconda morte non ha potere su di lui e qui viene citato apocalisse 26 cioè non subirà i tormenti eterni ma saranno sacerdoti di dio e del cristo e regneranno con lui per mille anni mentre scriveva questo lo spirito gli rivelò che la chiesa avrebbe regnato mille anni in questo secolo fino alla fine del mondo quindi mille anni sono simbolici e di cui valgono a questo secolo fino alla fine del mondo è chiaro dunque che non si debba dubitare del regno eterno quando anche nello stesso tempo presente i santi regnano infatti si dice bene che coloro che regnano sono quelli che con l'aiuto di dio dirigono bene se stessi e dirigono gli altri anche nel mezzo delle prove di questo mondo e dice ancora e quando i mille anni saranno trascorsi in pratica sta esaminando il capitolo 20 di apocalisse quando i mille anni saranno trascorsi quindi satana sarà liberato dalla sua prigione ha detto trascorsi prendendo la parte per il tutto perché satana sarà liberato in modo tale che rimangono ancora tre anni e sei mesi dall'ultimo combattimento fino ai tempi dell'anticristo e andrà a sedurre le nazioni che sono ai quattro degli angoli della terra dice il tutto per la parte perché non tutti possono essere sedotti soltanto gli orgogliosi e gli embi saranno sedotti infatti gli umili e i veri cristiani non saranno sedotti molti infatti sono i chiamati ma pochi gli eletti e il diavolo e il suo popolo salirono fino alla superficie della terra cioè nell'arroganza e nell'orgoglio e circondarono l'accampamento dei santi e la città dei beni amati cioè la chiesa ciò che ha detto anche prima radunati nell'armageddon poiché non possono radunarsi dai quattro angoli della terra in una sola città oggi ogni popolo sarà radunato in questi quattro angoli in vista dell'assedio della città santa cioè della persecuzione della chiesa qui si sta riferendo appunto all'ultima persecuzione della chiesa che avverrà in tutto il mondo quindi mentre adesso la chiesa viene perseguitata in alcune parti della terra quando sorgerà l'anticristo quindi quando satana salirà dall'abisso e quindi sarà sciolto per quel breve tempo cioè tre anni e mezzo la chiesa sarà assalita in tutti in tutte le parti del mondo quindi sarà perseguitata in tutte le parti del mondo e dio fece scendere dal cielo c'è della chiesa un fuoco che li divorò eccetera poi dice e il diavolo che li seduceva fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono la bestia e i falsi profeti falsi profeti è detto degli eretici e dei falsi cristiani chiaramente ci sarà anche l'ultimo falso profeta poi infatti dal tempo in cui il signore ha sofferto la bestia e i falsi profeti muoiono e sono gettati nel fuoco fino a che siano combiuti i mille anni che devono trascorrere dalla venuta del signore e saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli e vidi i morti grandi e piccoli che stavano davanti al trono e dei libri furono aperti e un altro libro fu aperto che è il libro della vita di ogni uomo i libri aperti designano i testamenti di dio infatti è secondo i due testamenti che la chiesa sarà giudicata chiama libro della vita di ciascuno il ricordo delle nostre azioni non che colui che conosce le azioni nascoste abbia un inventario e i morti furono giudicati secondo ciò che è scritto nei libri secondo le loro opere cioè essi furono giudicati secondo i testamenti a seconda che essi abbiano compiuto no i comandamenti di dio e il mare restituì i suoi morti quelli che questo giorno del giudizio troverà qui vivi ecco il mare quindi rappresenta dove vivono ancora le persone cioè quelli che saranno trovati vivi quando cristo ritornerà diciamo quando ci sarà il giudizio finale alla fine dei tempi viene inteso appunto che il mare restituì i suoi morti cioè quelli che erano già morti spiritualmente parlando quelli che questo giorno quindi del giudizio troverà qui vivi significa il mare restituì i suoi morti sono i morti del mare perché il mare significa il mondo presente questo è un particolare molto importante per questo poi ci viene detto più avanti che il mare non ci sarà più cioè non ci sarà più il mondo presente quindi questa è veramente una grande rivelazione di cesario di arles quindi il mare significa il mondo presente la morte e l'inferno restituirò nei loro morti cioè coloro che saranno trovati nelle tombe nel giorno del giudizio ecco quindi viene fatta questa distinzione tra il mare che è il tempo presente restituirà i morti quelli diciamo morti nell'anima e quindi saranno giudicati secondo le loro opere e tra quelli invece che già erano morte che si trovavano negli inferi e quindi anche gli inferi restituiranno dice i loro morti per essere giudicati la morte e l'inferno saranno gettate nello stagno la morte e l'inferno designano il diavolo e il suo popolo perché appunto il diavolo è stato la causa della morte e colui che non fu trovato scritto nel libro della vita e che abbandonato alle sue volutà cioè alle sue volontà i suoi desideri alle sue concubiscenze insomma non ha meritato di essere quindi giudicato da dio in questo mondo con la sua con una prova temporale durante la sua vita costui quindi poi sarà mandato nello stagno di fuoco c'è sparla di quelli che dio ha abbandonato leggete la lettera ai romani nel primo capitolo e ci descrive chi sono coloro che dio ha abbandonato perché dio corregge colui che ama dice la scrittura a differenza invece le persone che dio abbandona è chiaro che vanno in perdizione continuando ancora la lettura dice e vidi un cielo nuovo e una terra nuova perché il cielo di prima e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più e vidi la città santa la nuova gerusalemme che scendeva dal cielo presso dio adorna come una sposa e pronta per il suo sposo e udì una voce potente che veniva dal cielo e diceva ecco la dimora di dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo e lui sarà il suo il dio con loro il loro dio e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte né pianto qui viene citato apocalisse capitolo 21 da 1 a 4 ha detto tutto ciò riguardo alla gloria che la chiesa avrà dopo la risurrezione cioè qui si parla della risurrezione del corpo e dice scrivi queste parole che sono certe e vere e dice io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine a coloro che hanno sete io darò da bere gratuitamente alla fonte dell'acqua della vita cioè a colui che lo desidera egli darà la remissione dei peccati mediante la fonte del battesimo colui che vincerà possiederà queste cose io sarò il suo dio e lui sarà mio figlio quando ai vili agli increduli agli abbietti agli omicidi agli avvelenatori gli spiritisti insomma quelli che praticano la magia agli idolatri e a tutti i mentitori la loro parte sarà nello stagno di fuoco e di zolfo che è la seconda morte apocalisse 21 8 ciò che è stato detto prima ha condannato questa grande prostituta che ha corrotto la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servi che essa aveva spasso con le sue mani e la voce della chiesa quando nel giorno del giudizio tutti i cattivi usciranno dal suo seno per bruciare nel fuoco eterno e il loro fumo sale per i secoli dei secoli infatti non è il fumo di una città visibile che si leva per i secoli dei secoli ma quella degli uomini induriti nell'orgoglio ciò che dice perché sono giunte le nozze dell'agnello si intende nel del cristo e della chiesa ma quando la descrive rivestita di lino fine con il lino fine si intende le opere buone dei santi di cui i giusti sono rivestiti secondo questa parola i tuoi sacerdoti si rivestono di giustizia quando dice che essi hanno regnato mille anni comprendete il tempo presente durante il quale si dice a ragione che regnano i santi perché con l'aiuto di dio essi si comporta si comportano in modo da non poter essere vinti dal peccato e per mostrare questo con evidenza prosegue questa è la prima resurrezione questa stessa è quella infatti nella quale noi risuscitiamo attraverso il battesimo perché come in questa vita la prima morte è la morte e la morte data dal peccato così la prima risurrezione si opera con la remissione dei peccati beato essendo colui che prende parte alla prima resurrezione cioè colui che avrà conservato ciò che ha ricevuto rinascendo con il battesimo ma quando dice che la chiesa regnerà mille anni comprendete in questo tempo fino alla fine del mondo da ciò è chiaro che non si deve dubitare del regno eterno anche nel tempo presente i santi regnano infatti e ha ragione che si dice che regnano coloro che con l'aiuto del dio dirigono bene se stessi e dirigono gli altri anche nel mezzo delle prove del mondo ma quando si dice del diavolo che seduce le nazioni i quattro angoli della terra comprendete il tutto per la parte cioè cioè poiché solo i malvagi sono sedotti secondo questa parola molti sono i chiamati ma pochi gli eletti ma quando dice che il diavolo e i suoi angeli hanno circondato l'accampamento dei santi e la città dei bene amati esse non potranno essere radunati dai quattro angoli della terra in una sola città ma è in questi quattro angoli che ogni popolo è radunato in vista della persecuzione della chiesa cioè l'ultima persecuzione poi dice quando dice che i libri sono stati aperti ha voluto indicare i testamenti di dio infatti è secondo i due testamenti che la chiesa sarà giudicata ma il libro della vita di ciascuno significa il memoriale delle nostre azioni perché nel giorno del giudizio nulla rimarrà nascosto e nessuno potrà nascondere i suoi peccati e i suoi crimini quando dice che il mare restituì i suoi morti parla di coloro che la venuta di cristo troverà vivi in questo mondo sono i morti del mare perché il mare significa questo secolo quando dice la morte degli inferi restituirono i loro morti bisogna comprendere quelli che saranno trovate nelle tombe nel giorno del giudizio e la morte e l'inferno saranno mandate nello stagno di fuoco in questo punto con la morte e l'inferno ha voluto designare il diavolo e il suo popolo che abbandonato alle sue volontà non ha meritato di essere giudicato da una prova temporale dopo questo dopo aver descritto la gloria della chiesa aggiunge queste parole a colui che assederò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita cioè a colui che desidera la remissione dei peccati mediante la fonte del battesimo colui che vingerà possederà queste cose e io sarò il suo scrive e regna per i secoli dei secoli amen ecco questa era l'omelia numero 18 di san cesario di arles anno 530 dopo cristo adesso vi leggo invece cosa scrive san beida nel 685 dopo cristo nel suo commentario all'apocalisse quindi anche lui ci spiega in maniera breve brevemente il millennio quindi apocalisse capitolo capitolo 20 versetto 1 vedete qui ci sono i versetti vedete ci sono il capitolo e il versetto così che potete comprendere la spiegazione più facilmente quindi quello che è scritto in corsivo come sempre sono appunto le citazioni direttamente dalla bibbia e vedi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una grande catena nella sua mano ricapitolando fin dall'inizio quindi in pratica il capitolo 20 è una ricapitolazione del tempo presente e di quello che poi accadrà negli ultimi tre anni e mezzo quando sarà ci sarà l'anticristo quindi ricapitolando fin dall'inizio espone in modo più completo quando detto sopra la bestia che hai visto fu e non è più e salirà dall'abisso e andrà in perdizione il signore dunque dotato del potere del padre scende nella carne pronto a combattere col signore del mondo e a strappargli i suoi beni dopo averlo legato quindi questa è una rappresentazione della natura umana di cristo dall'altro il signore anche descritto come messaggero perché angelo vuol dire messaggero e anche il signore anche il sommo sacerdote e vediamo che nell'apocalisse noi leggiamo che il signore si rivolge ai sacerdoti delle chiese insomma chiamandoli angeli e qui quindi vediamo il signore scende sulla terra con la chiave dell'abisso lega il diavolo quindi è qualche cosa già di avvenuto quindi dobbiamo sempre intendere il linguaggio spirituale della parola di dio soprattutto nell'apocalisse quindi il signore dunque dotato del potere del padre scende nella carne pronto a combattere col signore del mondo e a strappargli i suoi beni dopo averlo legato e afferrò il drago il serpente antico che è il diavolo e satana diavolo vuol dire che scorre all'ingiù mentre in greco calunniatore e satana avversario o prevaricatore dunque viene chiamato drago per il modo sottile di regare danno serpente per l'astuzia nell'incannare diavolo per la caduta del suo stato satana per l'ostinazione nell'opporsi al signore e lo incatenò per mille anni cioè col ringchiuderlo frenò il suo potere di sedurre gli uomini che dovevano essere liberati potere con cui se gli fosse permesso di spiegarlo tutto quando con violenza o inganno in tanto in tanto luogo tempo incannerebbe moltissimi uomini deboli ha detto mille anni come una parte cioè il rimanente dei mille anni del sesto giorno nel quale il signore nacque e patì e lo gettò nell'abisso cioè nei cuori del popolo persecutore non perché prima il diavolo non fosse lì nell'abisso ma perché rispinto dai credenti cominciò a possedere sempre più gli empi che non lo sono e si allontanano da dio ma anche odiano gratuitamente chi lo serve il che anche il signore mostra chiaramente chiudendolo fuori dagli uomini fra i porci ecco qui c'è allusione appunto vi ricordo quell'episodio che troviamo nei vangeli dove gesù libero un uomo che era posseduto da una legione di demoni e li fece uscire fuori da quell'uomo quei demoni chiesero di andare nei porci e quei c'è e quei porci dice precipitarono nell'abisso ecco qui quindi troviamo appunto questo questo che ci sta spiegando san veda della liberazione che avviene di noi cristiani col battesimo quando appunto veniamo liberati dal potere dei demoni del diavolo e quindi quest'oro vengono gettati nell'abisso nell'abisso chiaramente di questo mondo destinato a andare in perdizione quindi giusta la spiegazione molto profonda qui che fa veda allora continuo la lettura e loro in chiuso e pose il sigillo sopra di lui perché non se non si educa più le genti ora il sigillo io credo che sia appunto il battesimo che viene chiamato sigillo lo spirito santo anche che noi riceviamo appunto con il battesimo quindi questo sigillo impedisce al diavolo di poter avere potere su di noi chiaramente quando noi ubbidiamo alla voce del signore quando noi perseveriamo quando noi mettiamo in pratica la parola del signore quindi gli vietò e come con un sigillo regale gli impedì di sedurre le genti ma solo quelle che sono state destinate alla vita che prima seduceva perché non fossero ricongiliate con dio dopo questi fatti è necessario che venga liberato per un breve tempo allora verrà liberato come dice sant'agostino quando anche il tempo sarà breve infatti si legge che per tre anni e mezzo includerirà con tutte le forze sue e dei suoi e si riferisce appunto al tempo dell'anticristo gli ultimi tre anni e mezzo di questo mondo e poi dice eviti dei troni quindi apocalisse 24 eviti dei troni e alcuni che sedettero sopra quelli e fu dato loro il potere di giudicare mostra che cosa accada in quei mille anni in cui il diavolo è tenuto legato la chiesa infatti che sederà in cristo sopra 12 troni per giudicare già siede giudicante lei che meritò di udire dal suo re tutto ciò che avrei legato sulla terra sarà legato anche in cielo e le anime dei decapitate per la testimonianza di gesù e per la parola di dio si ode ciò ciò che poi questi dirà regnarono con cristo per mille anni la chiesa perciò regna con cristo sui vivi e sui morti perciò cristo infatti morì per essere signore dei vivi e dei morti come dice l'apostolo questa è una citazione di romani 14 9 ma ha ricordato solo le anime dei martiri poiché loro specialmente regnano dopo la morte loro che fino alla morte hanno combattuto per la verità e così infatti prosegue e quelli che non adorarono la bestia nella sua statua vissero e regnarono con cristo per mille anni dobbiamo intendere insieme sia i vivi sia i morti infatti tanto da vivi ancora in questa carne mortale quando da morti regnano già ora con cristo in modo adatto a questo tempo per tutto questo periodo che viene indicato col numero di mille anni tutti gli altri morti non sono tornati a vivere finché non sono combiuti i mille anni chiunque per tutto codesto tempo in cui si combia la prima risurrezione cioè quella delle anime non abbia udito la voce del figlio e sia passato dalla morte alla vita certo nella seconda risurrezione cioè quella della carne passerà con codesta carne alla seconda morte cioè ai tormenti eterni questa è la prima risurrezione dice quando risorgiamo per mezzo del battesimo come dice l'apostolo se siete risorti con cristo cercate le cose di lassù citazione di colossesi capitolo 3 versetto 1 come infatti la prima morte avviene in questa vita attraverso i peccati quando l'anima che ha peccato muore come dice appunto il zacchiele 18 20 l'anima che pecca e se stessa morrà di questa è la prima morte in pratica così la prima risurrezione in questa vita avviene per la remissione dei peccati beato e santo che a parte alla prima risurrezione cioè chi si è salvato poiché è rinato ma saranno santi di dio e di cristo un'altra versione a sacerdoti di dio e di cristo il che non fu detto soltanto riguardo i vescovi e i presbiteri che in senso proprio sono detti sacerdoti nella chiesa ma come tutti quanti siamo detti di cristo per il mistico crisma così tutti anche sacerdoti poiché siamo membra di un solo sacerdote noi dei quali l'apostolo pietro dice popolo santo sacerdozio regale e qui viene citato primo pietro 2 9 e regneranno con cristo per i mille anni lo spirito riferì scrivendo queste cose che la chiesa regnerà per mille anni cioè fino alla fine del mondo e come potrebbe nascere un qualche dubbio infatti è chiaro che si parla del regno eterno e quando saranno combiuti i mille anni satana sarà liberato dal suo carcere disse combiuti usando il troppo una parte per il tutto infatti sarà liberato in modo che restino tre anni e sei mesi dell'ultimo scontro cioè quello appunto che ci sarà l'anticristo ma a parte questo troppo giustamente il tempo si dice finito infatti tanto piccolo avanzo non va considerato cioè questi tre anni e mezzo dal momento che l'apostolo si riferisce a san giovanni ha definito un'ora 700 anni e quando il dio vorrà allora quando san veda ha scritto questo commentario eravamo circa nel quasi nel 700 dopo cristo quindi erano trascosti 700 anni e quindi lui dice giustamente se l'apostolo san giovanni nella prima lettera a giovanni dice fratelli carissimi è l'ultima ora ora sono solti molti anticristi quindi definisce questo nostro tempo l'ultima ora si riferisce appunto 700 anni e quando dio ne vorrà ancora è chiaro che questo breve tempo di tre anni e mezzo dice è un qualche irrisorio insomma non va nemmeno considerato e poi dice che alla fine quindi durante questi tre anni e mezzo l'ultima persecuzione che sarà da parte dell'anticristo uscirà e sedurà le genti che sono ai quattro angoli della terra gog e magog e li riunirà in battaglia e salirono su tutta la superficie della terra e circondarono l'accampamento dei santi e la città amata non si vuole indicare certo che vennero o verranno in un luogo solo come se la città amata cioè la chiesa debba essere ristretta in un qualche luogo al contrario giovanni con l'espressione di superficie della terra preferì piuttosto svelare che la chiesa sarà perseguitata fra tutte le genti in quel tempo e con quella di accampamento che il suo esercito non sarà abbandonato e poi leggiamo ancora il diavolo che lì seduceva fu gettato nella palude di fuoco e zolfo dove anche la bestia è lo pseudoprofeta cioè il diavolo nel giudizio finale sarà gettato nel fuoco eterno dove anche sono tutti quelli che prima gettò cioè la più grande parte dell'empia città l'empia città è chiaramente la città del diavolo la grande diciamo meretrice la babilonia la grande la bestia infatti deve essere intesa a seconda dei casi ora come il diavolo ora come l'anticristo ora come l'empia città stessa cioè la città del diavolo con l'espressione fuoco che discende dal cielo poi si può intendere la repentina distruzione degli empi quando il signore sopraggiungendo distruggerà l'anticristo con l'alito della sua bocca e spiega meglio come il per il giudizio di cristo sia stato gettato coi suoi nel fuoco e vedi un trono grande candido e colui che vi sedeva sopra dal cui cospetto fuggirono terra e cielo disse di aver visto colui che sedeva sul trono dalla cui vista fuggirono terra e cielo dopo il giudizio quindi cessano di esistere cielo e terra dal momento che cominciano a esistere un cielo nuovo e una terra nuova cioè per la trasformazione di cose che non sono però destinate a morire in assoluto passerà infatti la figura di questo mondo e qui viene citato primo corinthi 7 31 e non ha aggiunto e la sostanza di questo mondo insomma e infatti si crede che le medesime cose cambieranno in meglio in pratica verrà una trasformazione ma viene una trasformazione per i nostri corpi di carne che poi risorgeranno gloriosi così anche per la terra anche la terra subirà in pratica una distruzione una distruzione chiaramente questa terra e poi una trasformazione e infine poi si parla del giudizio si parla appunto del giudizio che ciascuno sarà giudicato secondo le proprie le proprie opere vediamo un po se leggo l'ultima l'ultimo pezzo e qui poi mi fermo poi dice che alla fine la morte all'inferno furono gettate nello stagno di fuoco indente il diavolo con i suoi diavolo che prima quando era seduto sopra il cavallo pallido era inseguito da inferno infatti ripete in modo più chiaro ciò che già aveva detto preannunciandolo e il diavolo che li seduceva fu gettato nella palude di fuoco e zolfo cioè ciò che ciò che c'è scusate ciò che che certo la aveva aggiunto in modo piuttosto scuro dove dice sia la bestia sia lo pseudo profeta qui lo ha espresso in modo più chiaro e poi dice che chi non viene trovato scritto nel libro della vita cioè chi non fu giudicato vivo da dio cioè che non era risorto in pratica la sua anima non era risorta perché i viventi per dio sono appunto quelli che hanno creduto in cristo e che quindi la loro anima è già risorta come abbiamo visto in quanto prende parte alla prima risurrezione quindi cioè chi non fu giudicato vivo da dio quindi chi non viene trovato vivendo vivente perché non ha creduto in cristo donde mi sembra che dicano più correttamente quelli che intendono i libri aperti citati sopra come le coscienze e le opere dei singoli rese manifeste mentre il libro della vita come la prescenza di dio che non può ingannarsi in rapporto a quelli che cui sarà concessa la vita eterna che infatti furono scritti in quel libro cioè preconosciuti con più del giudizio con cui vide che i malvagi furono condannati resta da parlare anche dei buoni e quindi poi viene descritta la chiesa di dio i nuovi cieli e nuova terra appunto nei capitoli 21 e 22 di apocalisse bene questo era tutto spero che queste due letture san veda il venerabile e san cesario di arles spero che queste letture vi siano piaciute e possono essere credo edificanti soprattutto per la nostra anima e per il nostro spirito il signore ci benedica